Continuiamo il nostro studio dei pronomi relativi affrontando quelli che sono due fenomeni molto ricorrenti in greco che riguardano appunto questi pronomi. Il primo di questi è un fenomeno che va sotto il nome di nesso relativo. Cosa vuol dire nesso relativo? Nesso relativo o relativo apparente significa che la lingua greca utilizza talvolta il pronome relativo a inizio frase con uno specifico riferimento o qualche cosa che è stato già detto o per meglio dire utilizza il nesso relativo per esprimere un legame con qualche cosa che è stato detto in precedenza. Il nesso relativo è l'unica situazione nella quale il pronome relativo in greco va analizzato in quanto tale ma va tradotto in italiano con un pronome dimostrativo magari facendolo precedere da una congiunzione. Andiamo a guardare nella frase che cosa significa tutto questo. Per ierketai, para ten, emen oikian, en o filippos e gignosche. Come si vede il periodo è composto da due frasi ben distinte dal punto in alto quindi dal segno di interpunzione. Nella prima frase per ierketai diciamo che si potrebbe tradurre come un giunge arriva vicino alla mia casa. Nella seconda frase il pronome relativo en accusativo femminile singolare è privo di antecedente. Inizia la frase. Se noi provassimo a tradurlo così com'è avremmo un la quale accusativo femminile, femminile soprattutto, presumibilmente casa, la quale casa Filippo conosceva. E' chiaro che noi in italiano non potremmo utilizzare mai un pronome relativo da solo in una frase senza alcun antecedente. Che cosa si fa in queste situazioni? Si traduce quell'en con un dimostrativo e questa casa Filippo conosceva. Cioè siamo di fronte ad una situazione nella quale si parla anche di relativo apparente perché in buona sostanza la frase che noi stiamo traducendo finisce per essere in italiano una frase a sé stante. Dunque non è più una proposizione relativa. Anche in questo caso abbiamo un relativo a inizio frase. Abbiamo una frase in cui, attenzione, c'è un unico verbo per cui, come si diceva qualche istante fa, non siamo davanti ad una subordinata. Certo, in apparenza quella è una relativa, ma va tradotta come se fosse una proposizione autonoma, una principale. Os ten alete alete i anleghi, il quale dice la verità. Cioè, e questo dice la verità. Il pronome relativo os, maschile e singolare, lo traduciamo in italiano con questo e premettiamo a questo anche una congiunzione. Ora è chiaro che la congiunzione in italiano non dovrebbe cominciare il periodo, non iniziamo mai un periodo italiano con una e. e lo facciamo nelle traduzioni del nesso relativo proprio per esplicitare questo nesso, questo legame che c'è con qualche cosa che c'era prima. E concludiamo l'esame dei fenomeni dei relativi che toccano i problemi relativi attraverso l'attrazione del relativo. Cominciamo col dire che in greco esistono due tipi di attrazione, quella cosiddetta diretta e quella cosiddetta immersa. che si intende per attrazione diretta, si intende quel fenomeno per cui un relativo, che per sua funzione logica dovrebbe andare in un caso retto, per lo più un accusativo, viene attratto dal antecedente a cui si riferisce in genitivo o dativo. Stiamo dunque parlando di una situazione sintattica nella quale troveremo un pronome relativo al genitivo o dativo, non riusciremo a spiegare questo genitivo e dativo sulla base dell'analisi logica, ma lo dovremo spiegare come attrazione dall'antecedente. L'antecedente che sta prima sarà in genitivo o dativo, attrarrà il relativo. A cuo ton logon on leghi, io ascolto le parole che egli dice. Logon è un genitivo giustificato sul piano sintattico, perché logon è retto dal verbo a cuo, i verbi di percezione in greco hanno sempre quel genitivo. Se facciamo una tesi logica, ci accorgiamo che quel lon in realtà non è affatto giustificato, che ci dovrebbe essere un us, un accusativo, perché il verbo lego è transitivo. Troviamo il genitivo perché il genitivo viene attratto appunto da logon. Questo è un fenomeno che, diciamo, talora capita di incontrare. Molto più rara invece è quella che si chiama attrazione inversa del relativo, cioè il fenomeno inverso, vale a dire, non è più il relativo ad essere attratto, per capirci non è il relativo che presenta un caso, chiamiamolo anomalo, ma è invece l'antecedente che assume il caso del relativo. Se volessimo rapportare ad esempio a questa frase, dovremmo dire che al posto di ton logon si potrebbe trovare un tus locus, us legei, attratto appunto dal relativo in accusativo. E concludiamo semplicemente osservando che la lingua greca, a proposito dell'attrazione del relativo, può combinare il fenomeno dell'attrazione del relativo con l'ellissi dell'antecedente, con la prolessi del relativo, con i due fenomeni insieme, prolessi e ellissi insieme, come nel terzo esempio. Cioè la semplice frase ton strategon, crinomen, perion poiei, noi giudichiamo il comandante, per quello che fa, in italiano la rendiamo appunto con per quello che fa. In greco, come vedete, potremmo trovare perion, cioè semplicemente il complemento di argomento del relativo che ha attratto, che ha subito l'attrazione dal suo antecedente, che poi ha sottinteso il suo antecedente, per cui salta peritutoni. Questa stessa frase potremmo trovarla con la prolessi, per cui il perion lo potremmo trovare all'inizio della proposizione, poi il peritutoni invece messo dopo. Questa stessa frase potremmo trovarla con il perion all'inizio e senza nemmeno il peritutono che faccia capire che c'è stata la prolessi.